Ciao a tutti, domande da non fare mai ad un uomo. Attenzione! In questo video voglio spiegarti quali sono delle domande che non devi mai fare ad un uomo. Perché lo mettono in fuga. Perché lo mettono in fuga. Oppure comunque ti predispongono male. Questo è fondamentale, perché ti fanno percepire come gelosa, possessiva e rompi. Soprattutto all'inizio della conoscenza. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E se vuoi partecipare al mio seminario online, che sarà martedì 14 luglio, dalle 20.30 alle 23, devi partecipare semplicemente abbonandoti al canale. Abbonandoti al canale Felicità e Benessere, potrai partecipare a seminari online. E il riferimento è appunto il tastino Seminari online. Se non lo vedi, il tastino abbonati, scusa, puoi selezionare Seminari online. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. E poi il video, che sarà in diretta martedì 14 luglio, dalle 20.30 alle 23, resterà per un mese, quindi avrai tutto il tempo di vederlo, stravederlo e rivederlo. E veniamo adesso a domande da non fare mai ad un uomo. Attenzione, lo farai sparire. Allora, la prima domanda è Senti ancora la tua ex? Cioè, questa è proprio la cosa peggiore, perché soprattutto se lui... Allora, i casi sono due. O a lui non gli frega niente della ex, e quindi se la sente o che non la sente, non ha importanza per te. Però, se tu gli vai a dire questo, sembra una cosa inquisitoria, sembra un qualche cosa che non gli va. Cioè, sembra... viene vista come rompipalle, controllore, soprattutto se lo fa all'inizio, tendi a metterli in fuga. Se invece lui, diciamo ancora, è connesso alla ex, e tu in questo modo gli fai portare l'attenzione, e magari non la sentiva più, gli viene voglia di sentirla. Comunque, è una buona domanda questa per mettere in fuga un uomo, per farlo scappare. È la cosa peggiore che puoi fare. Altra domanda da non fare mai, spesso si fanno anche in diretta, nelle telefonate, magari telefoni con chi sei, dove sei, con chi eri ieri sera, cosa hai fatto ieri sera. Sono tutte cose indagatorie. Intanto, ma scusa, secondo te, se lui ieri sera era con l'amante, con un'altra donna, e te lo viene a dire a te, cioè, che senso ha fare queste domande? Anche qua, vieni vista come una indagatrice, e non ha nessun senso farle. Perché lui non ti direbbe mai, diciamo, con chi era, cosa faceva, se ci fosse stato anche. E questo tipo di messaggi ha un'unica, dà un unico risultato, quello di mettere in fuga un uomo. Lo fa scappare. Se vuoi farlo scappare, questo è il modo migliore per agire. Ma sul serio, perché li metti in fuga, fai scappare gli uomini come nebbia, fai sciogliere, diciamo, come nebbia al sole. Terzo tipo di messaggio, da non dire mai, è che cosa c'è che non va. Anche qua è un messaggio al negativo. Se tu dici cosa c'è che non va, lo fai comunque pensare alle cose che non vanno bene. E se chi cerca trova, vuoi che non trovi qualcosa che non va, Invece, digli qualcosa piuttosto di diverso, cosa ti piace nella nostra relazione, cosa... Così fai... perché noi dove focalizziamo la nostra mente, quella diventa la nostra realtà. Se tu fai focalizzare la tua mente sul negativo, otterrai il negativo. E purtroppo... purtroppo succede questo. Questo è fondamentale imparare a farlo, perché è estremamente negativo far focalizzare sul negativo. Ecco, questo è importante. Quarta cosa, che non devi mai dirgli un uomo, è ti sembro grassa, ti sembro brutta, ti sembro ingrassata. Cioè qualcosa che svilisce, diciamo, te stessa. Ecco, questa è un'altra cosa che dovresti evitare assolutamente di fare. Dovresti assolutamente evitare, perché se tu porti avanti una situazione del genere, beh, non otterrai assolutamente, anche qua, nessun risultato. Cioè lo farai focalizzare su qualcosa di brutto. Magari lui non ti avrà visto grassa e adesso comincia a farci caso. A notare che sei grassa, a notare che sei brutta, a notare che sei vecchia. Mi trovi vecchia? Eh, certo. E quindi inizierai a, diciamo, a spingerlo, allontanarlo da te. Lo metterai in fuga. Sono delle domande queste che devi assolutamente evitare di fare ad un uomo. La quinta domanda è quella tipica da bisognosa. Mi consideri la tua fidanzata? Che rapporto c'è tra noi? Ecco, quindi quello che va a specificare la relazione. Allora, se tu pensi, ti fai questa domanda, è perché sei già la risposta. Lui non ti considera la tua fidanzata, la sua fidanzata. Perché se ti considerasse la sua fidanzata si comporterebbe diversamente. Quindi è inutile andarla a rimarcare. È assolutamente inutile, ma piuttosto devi agire per far sì che lui inizia a considerare la tua fidanzata, la sua fidanzata, perché se tu ti comporti in questo modo, otterrai soltanto il risultato di allontanarlo ancora di più, sempre di più, senza avere di fatto poi alcun beneficio. E sesto, sesta domanda assolutamente da evitare di fare un uomo, è invece andare a indagare sui sentimenti. Il tipico, mi ami? Ma quanto mi ami? Dico, questa è un'altra cosa allucinante. Perché, come dire, anche qua intanto se tu gli chiedi se ti ama, è perché, diciamo, pensi che non ti ami. E sicuramente lui dice, ma l'amo questa donna? Ma va, ma chi la ama? Chi se ne frega? Allora, una persona, intanto se ti ama te lo dice, ma soprattutto lo dimostra. E quindi sono cose, queste sono delle domande che hanno un unico risultato, un unico effetto di farlo scappare, di metterlo in fuga, di far sì che lui si sganci completamente da te. E poi, altra domanda, quella che prende atto, le domande che prendono atto del tuo fallimento. Ad esempio, domande del tipo Ma mi avevi promesso che e poi non l'hai fatto perché? Oppure, avevi detto che mi avevi giurato che e poi non allora? Questo vuol dire innescare un qualcosa, tu devi sanzionare, da un punto di vista analogico, non logico. Cioè, non devi andare a dire mi avevi promesso, avevi detto, avevi spergiurato, avevi... Non serve a niente questo. Servono soltanto ad allontanarlo, perché vieni vista come una rompipalle, crei un clima negativo nella relazione. Tu devi sanzionare analogicamente. Ti va promesso che sareste andato in vacanza e poi all'ultimo, a cambiare di idea, tu ti organizzi e vai in vacanza per i fatti tuoi. con un altro uomo, ad esempio, ti organizzi. Oppure vai in vacanza in un... Non c'è un altro uomo, vai in vacanza in un club per single, una vacanza organizzata per single e si farà furbo. Cioè, come dire, ti aveva promesso di poter in vacanza, non ti ci porta, ti organizzi, tu club per single, crociera per single, non so, dico attività per single, ad esempio, se non c'hai già qualcun altro con cui andare. e quindi si farà furbo e ti dirà, ma, cioè, vabbè, ma avevi detto che poi non hai più fatto niente. Ho detto, boh, non avrò voglia, mi sono organizzata per i fatti miei e questo è quello che devi fare. Bene, lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che martedì 14 luglio dalle 20.30 alle 23 farò un seminario online su seduzione ed amore. Per partecipare a questo seminario online su seduzione ed amore è molto semplice. Basta, basta andare nella home page tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti e selezionare tra le varie opzioni diciamo così di abbonamenti selezionare seminari online. E inoltre ti ricordo che il seminario sarà in diretta martedì 14 luglio dalle 20.30 alle 23 ma comunque resterà un mese quindi se puoi per caso quel giorno lì non puoi non ti preoccupare perché avrai tutte le possibilità di vederlo, stravederlo e rivederlo per un mese di tempo. Bene, per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao! Ciao!